Buongiorno, bentrovati, appuntamento con Mattino 6. Di giovedì 26 maggio, apriamo con il Santo del Giorno, si tratta di San Filippo Neri, sacerdote, protettore dei giovani, nacque a Firenze da ricca famiglia nel 1515, studiata umanità per potersi fare sacerdote, rinunziò all'eredità dello zio e partì per Roma, dove fu accolto da un suo concittadino. Finiti gli studi e fatto sacerdote, si tiede con tutte le forze alla propria santificazione. Favorito della più sublime contemplazione, le infabili dolcezze spirituali, lo facevano esclamare, basta signore, basta, perché questo mio cuore è sì piccolo per amare voi così amabile. Amava molto i poveri ed era di continuo a contatto con il popolo, visitava gli ammalati nelle loro case e negli ospedali e li serviva di giorno e notte. Però prediligeva i giovani e la sua stanza era divenuta il loro ritrovo gradito. Nella celebrazione della Santa Messa era spesso rapito in dolci estasi, sollevato in aria e circonfuso da ogni parte di luce celestiale. Un angelo in carne confessionale passava le intere giornate ed era tanta la sua abilità che non andava a lui peccatore per ostinato che fosse senza rimettersi sulla retta via. A Santa Maria della Valicella fondò poi la congregazione dell'oratorio che di tanto aiuto fu alla chiesa cattolica. Filippo, semplice ed umile, rifugì sempre gli onori e dignità ecclesiastiche più volte offertegli e Dio lo favorì col dono della profezia dei miracoli e con frequenti visioni. Morì il 26 maggio del 1595 all'età di 80 anni. I medici gli trovarono due costole adiacenti al cuore inarcate a causa dei violenti battiti di amore di Dio. Dunque San Filippo Neri, ricordato dalla chiesa cattolica, protettore dei giovani e sacerdote. Noi apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine del centro. Partiamo dall'edizione di Pescara, poi vedremo anche le altre edizioni. Il titolo principale, vedete l'edizione di Pescara, riguarda, forse ricorderete la vicenda tragica del ritrovamento una settimana fa in mare, a largo di Pescara, di un corpo, più che altro di uno scheletro, di un uomo e questo corpo potrebbe appartenere ad un sub scomparso da Ancona alcuni mesi fa. Per l'autopsia è un uomo di 40-50 anni, identikit compatibile con un fabrianese scomparso a largo di Ancona. E poi vedete la fotonotizia, Carla, pilota dell'aeronautica, sogno realizzato. Si tratta della prima donna istruttrice pilota di elicottero che ha parlato ieri a Pescara in Comune in occasione dell'apertura delle celebrazioni per ricordare Corradino Dascanio, abruzzese, nato a Popoli nel 1891 e inventore della Vespa, oltre che dei primi prototipi di elicottero. E poi la notizia che arriva da Firenze, dunque una notizia nazionale ma che ha fatto il giro del mondo perché è crollato in Lungarno all'Arme Rosso a Firenze. Vedete nella foto le auto finite nel fiume. E poi tornando alle cronache di casa nostra, in particolare di Pescara, ponti e strade, la città che cambia. E poi i play-off di calcio perché il Pescara troverà e ritroverà, nel caso di dire, nei play-off, nella semifinale dei play-off. Il Novara dell'ex Marco Baroni, piemontesi che ieri sera hanno battuto al San Nicola di Bari per 4-3 la formazione. Bianco-Rossa guidata dal pescarese Andrea Camplone. Gara incredibile con il Novara che si era portato sul 3-0, raggiunto sul 3-3, poi nei tempi supplementari. Il gol di Galabinov per il 4-3 in favore dei Novaresi. Ma parleremo di questa partita e anche di quello che sarà per il Pescara nei prossimi giorni, proprio nella pagina sportiva. Altre notizie che arrivano dalla prima pagina del centro, Vallelunga e Balneabile, Totto il Divieto, il forum H2O dice depuratori fuori uso. Lasciamo la prima pagina del centro, l'edizione di Pescara, andiamo a vedere insieme l'edizione di Chieti, poi vedremo quella di Teramo e infine di quella l'Aquila Avezzano e Sulmona. Allora andiamo a vedere l'edizione di Chieti del centro, ovviamente in riferimento alla prima pagina. Si parla di cronaca giudiziaria, i giudici salvano Mister Porsche. Chieti, tempo scaduto, niente concordato per salvare le quattro società dell'imprenditore Paglione. La prossima mossa tocca al Tribunale Civile ma nessuno ha presentato richieste di fallimento. E poi il caro Mensa nelle scuole di Chieti, la preside dallo stop allo sciopero del Panino. E poi le cronache, depuratori non in regola, li sigiliamo, il procuratore di Lanciano Francesco Menditto avverte la Sasi. E poi i canoni a raptari, il giudice boccia la Tassbis sulle imprese. Poi Ortona, deposito GPL, i sì e i no dividano. La città è poi a vasto, una notizia di cronaca, attentato all'ambulante, furgone bruciato alla commerciante di frutta. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano Vasto. Andiamo a vedere insieme l'edizione di Teramo, come vi dicevo. E poi chiuderemo con quella di L'Aquila, Avezzano e Surmona. Allora, prima pagina del centro di Teramo. Teramo, ecco qui la prima pagina. Teramo, quando il potere è rosa dalla prefettura allo zoo profilattico, dalla fondazione Tercas alla direzione sanitaria della ASL. I tanti posti di comando, ci sono le donne, segno di una società che sta cambiando. Poi un titolo che riguarda ancora la scomparsa di Marco Pannella, perché è stato depositato, è stato appoggiato a un vasetto di cannabis sulla tomba del leader politico radicale, scomparso nei giorni scorsi. E poi ancora da Teramo, denunciati quattro ultra, i sostenitori del Teramo, che picchiarono i giuliesi. E poi proprio a Giulianovo, un anello blu contro le barriere, progetto del PD per eliminare le barriere architettoniche sul lungomare. Poi Tortoreto, il commissario salva gli eventi dell'estate. Infine Roseto, un nuovo porto con ormeggi per 380 barche. Chiudiamo con la prima pagina del centro, edizione, come vi dicevo, di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Poi andremo a vedere anche i titoli dei principali quotidiani italiani oggi in edicola. Allora, prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. Ricostruzione, nuova inchiesta post terremoto. La Guardia di Finanza sequestra gli atti nel comune di Tione degli Abruzzi, nel Mirino, gli aggregati. Scontro in consiglio fra maggioranza e opposizione. Poi premiate le foto dell'Aquila che rinasce, iniziativa presso la scuola Dante Alighieri. Poi ancora l'Aquila, roio abusive, le antenne tv vanno rimosse. E Avezzano, via libera, McDonald's e Assunzioni. Infine Sulmona, acqua, bollette non pagate da 13 mila utenti. Infine, a Capistrello, un uomo è stato travolto da un tronco. C'è stato questo incidente sul lavoro grave, un boscaiolo che si trova stato ricoverato in ospedale. Lasciamo dunque le prime pagine del centro. Abbiamo visto le quattro edizioni. Ora andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, per vedere quali sono i titoli principali. Poi, tra l'altro, vedremo anche i titoli dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Sempre oggi in edicola. Allora, partiamo con i quotidiani nazionali. Siamo, tra poco vedremo, libero. Dovrebbe essere il primo giornale ad essere inquadrato. Ancora qualche istante e vedremo il titolo di libero. Eccolo qui, tassa nascosta sulle pensioni. Incassano i sindacati su 15 milioni di assegni e una trattenuta fino a 50 euro che l'Inps gira ai padronati per pratiche burocratiche. Il conto fa 1 miliardo e 757 milioni in un anno. E poi il titolo che abbiamo visto anche dalla prima pagina del centro. Si rompe il tubo, Renzi e governo Ladri saluti dalla voragine di Firenze. Vedete questa immagine che fa davvero impressione con queste auto finite nel fiume dopo il crollo di quest'argine del fiume Arno. E poi, nella capitale del terremoto emiliano, le chiese sono ancora diroccate. La regione rifà il centro islamico. Lasciamo la prima pagina del quotidiano libero. Andiamo avanti, siamo al Fatto Quotidiano. Referendum, le 30 bugie del sì. Il dossier propaganda e ragioni del no su una riforma disastrosa e pericolosa. Il bicameralismo resta, ma nel caos e i senatori non sono più eletti. Anche sul Fatto Quotidiano vedete la voragine di Firenze nel titolo e anche con il corredo di una foto. Poi siamo al Quotidiano. Il tempo di Roma, Giubileo, Lavoro, Usura e Atac. I flop e le vergogne di Roma. Città allo sfascio. I dati negativi dell'anno santo. Crescono gli strozzini, i nuovi scandali sui trasporti pubblici ed è il record di casse integrazioni. E poi si parla della vicenda dei Marò. Facciamo sfilare i Marò. Questa è la proposta del tempo. La parata del 2 giugno. Ridate onore ai fucilieri e aspettando Girone ai fuori. Regalateci la torre. La torre che è in Italia per motivi di salute. Girone ancora in India. Proseguiamo. Siamo al Quotidiano. Il manifesto. La frana. Vedete questo titolo un po' ad effetto che gioca su quanto è accaduto a Firenze con il crollo dell'Argine dell'Arno. Giornata nerissima per il Premier. Mentre nella sua Firenze, leggiamo nel titolo del manifesto, sprofonda clamorosamente il Lungarno, l'Istat spegne il ritornello della crescita. Dopo l'abbatosta sul fisco del Jobax arriva il crollo della produzione industriale. Le ricette del governo non accendono il motore della ripresa economica. Cattivi presaggi per Palazzo Chigi, scrive il manifesto. Andiamo avanti. L'unità. Noi li salviamo. L'ultimo terribile naufragio è di una carretta del mare con 600 migranti stipati a bordo. Solo l'intervento della nostra marina ha evitato una strage. Poi vedete anche qui la foto sul crollo di Firenze. Dall'unità passiamo al quotidiano il mattino di Napoli. Stadi violenti. La sfida di Renzi. Il Premier lancia un appello ai dirigenti e loda il comportamento della mamma di Esposito. È un esempio. E poi un titolo che riguarda il calcio. In questo caso essendo sul mattino riguarda il Napoli. De Laurentiis non incontra Sarri ma deposita il vecchio contratto. Dunque schermaglie tra il patron partenopeo e il tecnico napoletano. Poi vedete queste immagini con l'ennesimo salvataggio ieri della marina militare di 600 migranti. E siamo al quotidiano della CEI a venire. Il terzo settore ora può farsi primo con il sì della Camera. Varato il riassetto generale. Poi vedete tragedia in diretta. Centinaia in mare. Ancora un salvataggio della marina. Siamo al foglio. Vedete i titoli tutti di carattere politico. Uno in particolare, quel dito medio al Bataclan, si fa riferimento proprio all'attentato che ci fu nei mesi scorsi, che c'è stato nei mesi scorsi a Parigi. E poi un titolo che riguarda la politica non è col partito della spesa che Renzi vincerà il referendum di ottobre. Si parla tanto di questo referendum soprattutto per la tenuta del governo. Andiamo avanti. Il Gazzettino di Venezia. Si parla proprio di Venezia, città lagunare. La rivoluzione dei vaporetti. Poi in alto ladri e nomadi ai domiciliari nell'area vietata. E poi ancora in alto Renzo Piano. Riconosciamo nella periferia un luogo felice. E c'è l'intervista proprio su Marghera. Proseguiamo. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Dunque giornale che affronta soprattutto tematiche delle regioni meridionali. Riforme, l'out-out di Bersani, l'ex segretario del PD, sia il referendum se c'è il doppio turno di collegio. E poi c'è un titolo che riguarda proprio i play-off sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Un bari pazzesco. Rimonta illusoria. Poi la beffa finale. Siamo al quotidiano di Genova, il secolo XIX. Il patto tra Obama e Renzi intesa al G7 sulla crescita. Ma Merkel e Cameron insistono sull'austerity. E poi i 500 profughi scampati al naufragio. Barcone si rovescia. Cinque morti. La marina militare italiana evita il peggio. Siamo all'osservatore romano. Il quotidiano della Santa Sede. Il titolo principale in alto si fermi la violenza in Siria e poi al vertice umanitario, vedete, di spalla, senza i leader del G7. Poi vedete anche sul quotidiano dell'osservatore romano si parla dell'ennesimo salvataggio in mare, ancora molti nel Mediterraneo. Ma l'intervento della marina ha salvato 500 naufraghi. Questo era l'ultimo giornale. Andiamo a vedere allora, a proposito di quotidiani nazionali. Anche i titoli che riguardano i tre principali quotidiani sportivi. Oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Pelè, grazie mille. Orei in Gazzetta. La Champion. Amo l'attacco. Adesso giocherei nel Barça. Dovevo venire al Milan. Grande Totti. Merita un 10. Dunque intervista a tutto campo. A quello che è stato probabilmente, ed è ancora oggi, il più grande calciatore del mondo. E poi ancora notizie che riguardano lo sport e il calcio. Allegri cerca un esterno. Ora si stringe per Deni Alves. E poi il titolo che riguarda proprio la Serie B. Corsa alla A. Che emozioni? Il Bari rimonta da 0 a 3 a 3 a 3, ma al cento ventesimo. Dunque dopo i supplementari fa festa il Novara. Andiamo avanti dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport. Clamorosa Juve, Mascherano e Deni Alves sarebbero questi i nuovi, probabili nuovi arrivi in casa bianconera. E poi in alto Berlusconi. Caro Milan, giusto lasciarti adesso, venderò a chi ha i soldi per vincere, cinesi o arabi. E poi il titolo che riguarda i play-off di Serie B. Follia Bari sotto 0 a 3, rimonta e si fa beffare. 4 a 3 del Novara. Ai supplementari. E chiudiamo con tutto sport. Juve, Alves c'è, poi Mascherano. Il Toro dentro, ecco Mijajlovic che potrebbe essere, sarà anzi, quasi certamente il nuovo allenatore del Torino. Anzi, sarà sicuramente perché vedete la foto con la firma. Dunque c'è l'ufficialità, l'ex tecnico del Milan guiderà il Torino. E poi anche su tutto sport il titolo che riguarda i play-off di Serie B. Estasi Novara, impresa eroica fuori il Bari. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani sportivi. Abbiamo visto anche le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicolo. Ora andiamo a vedere il centro. Partiamo ovviamente a questo punto, dopo aver visto i titoli di respiro nazionale, con la cronaca d'Abruzzo. Tra l'altro, tra poco vi ricordo che ci sarà il consueto appuntamento con il meteo, con il nostro Giovanni De Palma. Il pubblico impiego all'ultima protesta. Per ora niente sciopero. Oggi la manifestazione a Pescara, che vale come un appello. La Regione ha tanti problemi. Risolviamoli con il dialogo. Ieri l'annuncio di questa manifestazione che si terrà questa mattina a Pescara. Andiamo a vedere il servizio. Di Domizio, domani ci sarà questa manifestazione, questo sciopero. Quali motivi? Il motivo è molto semplice. Dal 2009 manca il rinnovo del contratto nazionale dei pubblici dipendenti. Sull'argomento è intervenuta anche la Corte Costituzionale, con una sentenza che sancisce il diritto a questo rinnovo. Per cui è necessario mobilitarsi, visto che il Governo non si muove per procedere al rinnovo, in Abruzzo come si sta facendo nel resto delle regioni d'Italia. Si tratta del rinnovo del contratto molto importante, sia perché su un piano economico è necessario un adeguamento, visto che c'è uno stop al 2009 di quelle che sono le retribuzioni, sia perché sul piano normativo è necessario fare degli adeguamenti che consentano di adeguare l'organizzazione del lavoro rispetto a quelle che sono le novità normative introdotte negli ultimi sette anni. Ci sono una serie di vertenze che noi come CGL, CISLE, WILL abbiamo attivate sul territorio. In primis quella nei confronti della Regione Abruzzo. Sia rispetto alla regge di riordino e la riorganizzazione dell'ente regionale, sia rispetto al rinnovo del contratto di secondo livello, che è stato in questi anni taglieggiato, prima dall'amministrazione Chiodi e successivamente da questa amministrazione. Ancora non abbiamo trovato soluzione all'implementazione di questo fondo per installare l'accessorio dei dipendenti regionali, che lo si sono visti taglieggiato in questi ultimi due anni. Noi siamo uniti in questa manifestazione, che è una delle tante manifestazioni che stiamo facendo in Italia a livello regionale, per far sì che si arrivi subito al rinnovo contrattuale che ormai manca da troppo tempo, sono più di sette anni che noi non abbiamo un aumento contrattuale. Abbiamo calcolato che si è perso sui 4 mila euro a dipendente, e quindi credo che sia giunto anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale il tempo di siederci e rinnovare il contratto. Questo è il servizio sulla manifestazione che si terrà questa mattina a Pescara in Piazza Italia. Noi facciamo un passo indietro perché dobbiamo recuperare tre quotidiani nazionali con i loro titoli più importanti, quotidiani nazionali oggi in edicola, che non avevamo letto qualche istante fa. Partiamo dal Corriere della Sera, ecco qui il miracolo dei 562 salvati in mare, Barcone si ribalta, 5 vittime, molti dispersi, bimba di 9 mesi perde la madre, la ripresa degli arrivi e poi la notizia che riguarda l'economia fragile, per l'industria il peggior dato sul fatturato da tre anni. E poi anche sul Corriere della Sera, così lungarono e sprofondato, paura a Firenze, potrebbe essersi trattato di errore umano. Vedete questa foto, ci sono polemiche a Firenze per quanto accaduto. Siamo al quotidiano La Repubblica, scafisti, strage senza fine, salvati oltre 500 migranti. E poi una voragine tra i tesori, Firenze ferita. E poi l'intervista al costituzionalista Zagrebessi che dice no al referendum per non svuotare. La Democrazia, infine l'ultimo giornale, in questo caso il giornale di Milano. Fregatura di Stato, questo è il titolo principale, lo scandalo delle pensioni gratis. Gli enti pubblici non pagano i contributi per 30 miliardi, per questo non ci sono soldi. Cala la produzione industriale, Berlusconi invoca politici capaci. Allora abbiamo visto anche questi tre titoli, possiamo tornare brevemente al centro per vedere altri titoli di cronaca d'Abruzzo. Prima di ascoltare il nostro Giovanni De Palma, ancora qualche secondo. Che fatica è stata mettere insieme Pannella e il PC. C'è questa pagina dedicata proprio alla storia del leader radicale. Poi in basso, terapia del dolore, altri quattro centri. In Abruzzo e poi Officina L'Aquila, viaggio nei cantieri aperti per 200 tecnici e studenti. Noi ci fermiamo per qualche attimo con la nostra rassegna stampa perché siamo arrivati al momento del meteo. Vado a salutare il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, possiamo dire che finalmente è arrivata l'estate, almeno così ci auguriamo. Bel tempo, temperature in aumento dopo la pioggia, il freddo dei giorni scorsi. Il tempo sembra essersi stabilizzato. Durerà? Sì Paolo, diciamo che sulla nostra penisola, come giustamente hai anticipato tu, è in rimonta a una vasta area di alta pressione di matrice nordafricana che garantisce, nella giornata odierna garantirà anche nei prossimi giorni, condizioni di tempo stabile su gran parte della nostra penisola e sulla nostra regione, con temperature in progressivo aumento. Non si registreranno valori anomali sulla nostra regione, però andremo al di sopra delle medie stagionali. Come solitamente accade quando c'è l'anticiclione africano, l'anticiclione africano porta con sé anche una nuvolosità alta e stratificata e ovviamente anche purtroppo la sabbia africana in sospensione in quota. Quindi non aspettiamo un cielo sereno nei prossimi giorni, ma sarà caratterizzato appunto da questa copertura nuvolosa di matrice alta e stratificata con la sabbia africana in sospensione. Però Paolo non si tratterà di una situazione duratura perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione c'è da attendersi un cambiamento, un nuovo cambiamento del tempo, un nuovo peggioramento a partire dalla giornata di domenica. Probabilmente dalla seconda metà della giornata di domenica una estesa perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni centrosettentrionali, favorendo non solo un peggioramento del tempo con probabili rovesce temporali su gran parte del centro nord, ma darà luogo anche a una generale diminuzione delle temperature e ovviamente l'aria fresca di origine atlantica spazzerà via anche la sabbia africana in sospensione. Poi la situazione, Paolo, anche nei giorni successivi sembra voler restare con una situazione di instabilità anche probabilmente per gran parte della prossima settimana. È chiaro che questa è una tendenza che poi dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi giorni, intanto torniamo a ribadire il fatto che l'alta pressione in ulteriore rafforzamento nelle prossime ore e nei prossimi giorni sulla nostra penisola favorirà, ripeto, temperature in aumento e condizioni di stabilità. L'unica cosa, come ho accennato in precedenza, sarà probabile anche un aumento della numelosità alta e stratificata. Quindi poche novità almeno fino alla giornata di domenica, Paolo. Poi insomma arriva questo peggioramento a te. E dunque godiamoci questi giorni comunque di tempo tutto sommato bello, con temperature in aumento. Io ringrazio Giovanni De Palma. Appuntamento Giovanni con te sempre domani nel corso di mattino 6 alle 7.20. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma e per restare sempre informati, ormai conoscete tutti il sito www.abruzzometeo.org con informazioni e previsioni in tempo reale sull'evoluzione meteo nella nostra regione. Poi la pagina Facebook del nostro meteorologo, eccola qui inquadrata, altro utile strumento anche per interagire con il nostro Giovanni De Palma. Noi torniamo ai nostri quotidiani, stavamo leggendo una pagina dal centro che riguarda Officina L'Aquila, viaggio nei cantieri aperti per 200 tecnici e studenti su questo progetto, su Officina L'Aquila. Abbiamo realizzato un servizio che andiamo a vedere insieme. Ricostruzione Smart City, un binomio cercato, invocato, a volte di cui si è abusato per definire i processi di rinascita di uno dei centri storici più antichi e tutelati d'Italia. Per parlare della compatibilità degli interventi con le nuove tecnologie. Ed è stato questo il centro del dibattito della seconda giornata di Officina L'Aquila, la tre giorni dedicata ai processi di restauro e riqualificazioni post-sisma con esperti e tecnici di fama nazionale ed internazionale. Quale deve essere la vocazione dell'Aquila? Senza questa risposta, per Leopoldo Fere, è impossibile pensare al futuro. Bisogna approfondire il ragionamento sul futuro dell'Aquila, sulla vera vocazione di questa città. Perché la discussione che c'è stata in passato sul dov'era o com'era è stata piuttosto superficiale. L'Aquila non può essere com'era. L'Aquila con il terremoto ha cambiato strade inevitabilmente, come è sempre successo nelle varie città del mondo, quando succedono eventi come questi. Bisogna avere maggior coraggio nell'affermare una vocazione futura e maggior coraggio anche negli interventi fuori dal centro storico. L'Aquila e la sua ricostruzione comunque stanno già diventando un modello da esportare, come spiega Norbert Lashner, presidente di Climambita Foundation. Torniamo in studio, c'è qualche problema nel servizio. Andiamo avanti, vediamo le pagine di Cronaca d'Abruzzo, del messaggero trovata la droga da stupro, anche la terribile chetamina insieme a Mariana Ederoina nei 13 chili di sostanze. E poi mazzetta e tasse, l'inchiesta finisce a Roma, la decisione del riesame sulla tangente pagata al funzionario pescarese del fisco. E poi vedete questa foto, insorgono le strade della Movida, bisogna cielo aperto in pieno centro a Pescara. E poi la seconda pagina di Cronaca regionale, studiosi concordi, ricostruzione senza una visione. Poi si parla di trasporti, d'amico presidente della tua cerca di scongiurare lo sciopero programmato per domani. Altre notizie, presidenza della regione Palazzo Centi, entro giugno l'appalto e poi la vertenza, il pubblico impiego oggi scende in piazza. Abbiamo visto pochi minuti fa il servizio, a fondo pagina a Erri De Luca, la cittadinanza onoraria di Morrodoro, il sindaco mai vista qui tanta gente. E poi il masterplan Confindustria e sindacati in cabina di regia. Infine il liceo Vico di Sulmona, protagonista a Bruxelles. Noi allora ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 per leggere le pagine provinciali dei nostri quotidiani. Seconda parte di Mattino 6, ripartiamo dalle pagine della cronaca di Pescara, dal centro indagini da cold case per il giallo del corpo ripescato. I resti trovati in mare sono di un uomo tra i 40 e i 50 anni, prime risposte dopo l'autopsia eseguita dal dottor Polidoro. L'esperto Garofano esame decisivo per l'identificazione e poi nessuno ci ha avvisato, potrebbe essere Alessandro. Parla una parente di Alessandro Pandolfi, un 45enne scomparso proprio dalle marche nei mesi scorsi, potrebbe essere il corpo di quest'uomo, quello ripescato proprio nel mare antistante Pescara. Lutto nella marineria è morto. Mario Louros, dipendente comunale idraulico, è stato tra i protagonisti di Borgo Marino Nord, dove oggi il corteo funebre lo accompagnerà a piedi per l'ultima volta. Io le ricordo di questo appartenente alla marineria, questo storico personaggio della marineria di Pescara. Poi la cronaca, mandato europeo, ricercato polacco, arrestato dalla squadra mobile della questura di Pescara in via del circuito. Ancora avanti, a Vallelunga adesso si può fare il bagno, il comune revoca il divieto. Oggi l'istanza per via Musi e via Galilei, ma il forum dell'acqua denuncia depurazione fuori controllo. E poi Damiani dell'Arta, sui dati mutevoli dell'inquinamento, nessun mistero. Proseguiamo, la città che si trasforma, vedete questa pagina passante su come cambia Pescara, ponti, parchi e strade, Pescara cambia faccia, Porta Nuova ripartono i lavori. Dopo le proteste, ancora avanti, Capitan Carla in volo a sei anni, lo sognavo, ora sono pilota, la prima donna istruttore dell'aeronautica militare, ricorda D'Ascanio, sarebbe orgoglioso della sua invenzione. D'Ascanio, come dicevamo, ingegnere nato a Popoli, inventore della Vespa e anche dei primi prototipi di elicottero, il comune di Pescara, la presidenza del Consiglio Comunale, ricorda questo abruzzese famoso con tre giorni di eventi. Andiamo a vedere il servizio. La Vespa è il simbolo riconosciuto dell'Italia all'estero, ma in realtà è un simbolo tutto abruzzese? È un simbolo tutto abruzzese perché nasce da un'idea di un ingegnere abruzzese, un ingegnere nato a Popoli che è Corradino D'Ascanio, che quest'anno ricordiamo nella sala del Consiglio Comunale con due appuntamenti, quello di oggi che è l'inaugurazione della mostra fatta con gli studenti e quello di venerdì 27 alle 17, sempre con un convegno dedicato a questa figura. Lo ricordiamo perché Corradino D'Ascanio, lo ricordiamo quest'anno perché nasce 125 anni fa e perché quest'anno sono i 70 anni della Vespa. La Vespa come mezzo di locomozione per una mobilità, ma soprattutto come simbolo del rilancio dell'Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale. Era il 1946, usciva la prima Vespa, insomma tante famiglie anziché piangersi addosso compravano questo mezzo di locomozione per ricominciare una vita normale. Tra le invenzioni di Corradino D'Ascanio è l'elicottero. In Abruzzo è nata la prima istruttrice di elicottero a livello nazionale, quindi oggi è una doppia celebrazione. Sì, sono stata invitata sia perché è abruzzese, quindi stessa origine del Corradino D'Ascanio, ma anche perché è pilota di elicottero e istruttore di volo su elicottero. Sono nell'aeronautica militare, noi abbiamo l'unica scuola di volo basico elicotteri per tutte le forze armate e tutti i corpi armati dello Stato. Quella della donna all'interno di quelli che sono i servizi militari è ancora vista con diffidenza e c'è un numero minore rispetto agli uomini oppure inizia a integrarsi? Fondamentalmente le donne sono nelle forze armate dal 2000, quindi parliamo già di 16 anni e ormai siamo una realtà. Forse viene vista esternamente alla forza armata come un qualcosa di diverso, ma nella forza armata siamo una realtà e ricopriamo tutti quelli che sono i ruoli a seconda del grado che si rivesta. Complimenti al capitano Carlo Angelucci, andiamo avanti, siamo alla pagina di Montesilvano, sempre da Quotidiano Il Centro. Gli assessori si fanno causa e l'incarico va all'avvocato, il contenzioso da 20 mila euro per la testata sferrata da De Martini e Savaccaro. Ora la giunta affida un caso allegale del politico colpito e scoppia la polemica. E poi un'altra polemica, sempre a Montesilvano, ma il Comune ha dimenticato il premio di Martin. Proseguiamo, proseguiamo sempre dalle pagine della cronaca di Montesilvano e dell'area metropolitana di Pescara. Folla le bancarelle apre il nuovo mercato a Ranalli, taglio del nastro per il quinto punto vendita ambulante che parte in città con gli stand di circa 100 commercianti. Vedete il taglio del nastro con il sindaco di Montesilvano Maragno. E poi Ruggero, esponente del PD, Fogni a pezzi e giardini come Savane, questa la denuncia dell'esponente del centro-sinistra. E poi Colle Corvino, scontro fra auto, paura per due anziani rimasti feriti. Città Sant'Angelo passa il bilancio e polemica sui conti. Ancora avanti, siamo a Francavilla, il cimitero passa i privati e scontro sulle tariffe. Poi mezza Francavilla senza luce per quasi tutta la giornata. Blackout dalle 8.45 alle 16.15. Questo blackout previsto per la giornata di oggi per dei lavori. E siamo a San Giovanni Teatino, il Tribunale riabilita tre dirigenti licenziate. San Giovanni Teatino saranno riassunte dal Comune che ora dovrà risarcire oltre 150 mila euro. Ancora San Giovanni Teatino, in arrivo altri quattro centri commerciali. E a Francavilla, voucher per le colonie estive. Domande entro il 31 maggio. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. Oasi di Penne, festa in diretta sul Rai 3. Poi bussi sul Tirino, sviluppo lavoro e salute, convegno sul sito chimico. Manoppello, istituito il consiglio dei ragazzi. E sempre Manoppello, strada 539. Al Via, lavori per 3 milioni. Manoppello, posate 5 travi destinate ad un viadotto alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso. Vedete in basso poi altre due notizie. Popoli, concerto al Muspo, il coro di voci bianche, canta Paesiello. E a Penne, venerdì, ci sarà la notte bianca dell'Istituto Tecnico Marconi. Musica dal vivo e defile a scuola. Proseguiamo, siamo alla pagina di Chieti, del quotidiano Il Centro, il re delle concessionarie d'auto, la sorte di mister Paglione, nelle mani di tre giudici. Tempo scaduto, non arriva il concordato per tentare il salvataggio di quattro società e ora nessuna richiesta di fallimento. La prossima mossa tocca al Tribunale Civile. E poi sigilli ai depuratori, l'ultimatum del procuratore di Lanciano. In basso, cronaca che arriva sempre da Chieti, la finanza smantella la banda dell'eroina, sequestrati tre chili di neve e dieci di marijuana, tre in carcere domiciliari per un pescarese di 27 anni. E siamo all'Aquila, il padre, progettista estraneo alla tragedia, De Angelis perse la figlia nel croo del palazzo killer da lui ristrutturato, l'avvocato Coppi va assolto. Non doveva verificare la solidità dell'edificio. E poi la casa dello studente, la di Nino, dice solidarietà a condannati e famiglie. E poi in basso la cronaca, morta la madre di Centofanti dopo l'arresto del figlio. Infine a fondo pagina, abusive le antenne di radio e tv a roio. Lo ha deciso il giudice. E siamo a Teramo, donne al comando, la società che cambia dalle istituzioni alla sanità. A Teramo il potere è rosa. L'ultima arrivata il prefetto Graziella Patrizzi. Mai in tante hanno incarichi importanti. Di Pasquale io ho sempre dovuto lavorare il doppio degli uomini. E poi basetto di cannabis sulla tomba di Pannella, una provocazione, un omaggio alla battaglia antiproibizionista dello scomparso leader radicale. E siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo andare a vedere insieme i titoli, le pagine del messaggero e poi del quotidiano la città di Teramo. Ripartiamo dal messaggero. Cronaca di Pescara, la Caritas nella Rancitelli per bene, il progetto Ninive verso le periferie. Entrato nella fase più delicata dopo due mesi di incontri con i residenti. E poi il caso liceo classico nel mirino del Movimento 5 Stelle per il contributo volontario. Poi no al mercato etico nel tunnel. Dal prefetto la protesta di Sospiri, consigliere regionale di Forza Italia. In basso mare pulito anche a Fosso Vallelunga. E poi parola alla sovrintendenza, l'assessore al verde di Pietrodice, pronti a sostituire i pini. Toiletta a cielo aperto in piazza Muzzi, sdegno dei residenti. Un nordafricano seminascosto dietro un'auto ha defecato a pochi passi da mamme e bambini. La gente, dice, è un continuo. E poi arresto in via del circuito polacco latitante preso dalla mobile. Poi esserci sempre la polizia in festa. Oggi 164esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Ci sarà una cerimonia anche nelle varie questure. Ci saranno diverse cerimonie nella nostra regione. Poi golosità e nautica di scena al Marina di Pescara. Di che gusto sei apre il weekend seguito il 2 giugno da Sottocosta. Becci, presidente della Camera di Commercio, dice puntiamo a 40.000 visitatori. Allora andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato per la presentazione di questa iniziativa curata dalla Camera di Commercio di Pescara. Tre giorni dedicati ai sapori veri e sani, ai laboratori di cucina, alla degustazione e alla scoperta di tutte le novità del settore. A Pescara torna di che gusto sei, festival dedicato all'arte della pasticceria, gelateria e cioccolateria. Un settore che ha avuto una grande espansione negli ultimi anni. Non è un caso che questa quarta edizione addirittura veda la presenza di circa 70-80 aziende, alcune anche da fuori regione, presenze importanti, d'attorno del gelato è un prodotto che soprattutto in questo periodo ha il suo boom, si avvicina l'estate, per cui crediamo che anche quest'anno sarà un successo notevole con anche qualcosa di particolare, quest'anno si parla del senza glutine. Tantissimi ospiti celebri del piccolo schermo, esperti del settore, una cornice incantevole come quella del porto turistico, offriranno divertimento gratuito a bambini e adulti perché la cucina ormai coinvolge a tutte le età. Un padiglione dedicato alla gelateria, pasticceria e cioccolateria, con degli ospiti decisamente importanti e di spessore, con il maestro Angelo Grasso che ormai è presidente di giuria e nostro testimone all'ormai da quattro anni. Dobbiamo anche vedere quelle che sono le nuove tendenze del mercato e quindi vedi i blogger ad esempio, quindi Nicola Territo, pasticcere ma blogger di Cucinando Senza Glutine, che quindi verrà e ci darà una serie di dimostrazioni relativamente al senza glutine. Ci sarà un terzo padiglione di altri 120 metri quadri, non grandissimo, però all'interno del quale è allestita una cucina completa dove c'è la macchina di gelateria, c'è il forno, ci sono i tavoli di lavoro, c'è tutto. I bambini vestiti da chef, dalla punta dei piedi fino alla testa, avranno questi corsi. Ogni ora ci sarà un corso completamente gratuito. Il primo corso è di pasticceria, il secondo è di senza glutine, il terzo è di gelateria, il quarto è di cake design e il quinto è di panificazione, tutti i giorni in questa maniera. Ci saranno tante demo, tante cose, l'ingresso è gratuito, il parcheggio è gratuito perché si è occupato l'associazione di che gusto sei e insomma noi aspettiamo ancora tantissima gente. Ancora cronaca dalle pagine di Pescara del messaggero, tasse e mazzette, l'inchiesta a Roma, il Tribunale del Riesame ha trasferito per competenze il caso della tangente pagata al funzionario dell'Agenzia delle Entrate, poi Montesilvano, un uomo mercatino al Rione Ranalli, Francavilla, Scuola Bussi inadeguati di Renzo, solleva il caso, Penne Regina delle Oasi nella diretta di Rai 3, poi in basso Bussi, l'agonia del cervo investito che commuove il paese impotente, siamo alla pagina dell'Aquila, del messaggero, il cimitero è come una selva, erba alta, interviene il comune e poi politica, noi con Salvini, Cialente, commissariato da D'Alfonso, dicono i salviniani, poi ferie, la asla e replica la guille, nessuna circolare in positiva, in basso, scarpe donate e abbandonate, il caso va verso l'archiviazione, poi sette indagati per il decesso, in A24 eseguita l'autopsia, arriva il McDonald, il comune dall'Ok, di Pangrazio è una grande occasione, la conferenza dei servizi pone alcune condizioni tutte accettate, McDonald che sbarca ad Avezzano, sul Mona, Snam, impegno dei candidati a sostenere la battaglia, ancora Avezzano, rissa nel fucino per un incidente, tutti assolti, poi vedete in basso altri titoli, sul Mona, la città ora ha bisogno di uno spirito coraggioso, Elisabetta Bianchi, candidata a sindaco per Forza Italia, parla dei progetti futuri e poi Capistrello, operaio colpito dal tronco di un albero e poi sempre a sul Mona, Petrella lascia la sacca, sono stanco, infine Marsica, prevenzione, vertice sindaci, vigili del fuoco. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero, marijuana ed eroina e droga dello stubro in cinque nella retata della Guardia di Finanza e poi avvocati contro il Tribunale di Chieti e pronto a servire tutta la provincia e poi parchi a San Giovanni Teatino, nuovi parchi, il taglio dei nastri. In basso lezioni di cucina e di vita con lo chef anti-racket sempre a Chieti e poi assegnato a Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, il premio Lions di Chieti. Andiamo avanti, siamo a basto, cronaca, rogo doloso, distrugge un furgone, Lanciano, Menditto chiede garanzie, il procuratore sui depuratori Sasi. Lanciano ancora, famiglia, case popolari e decoro le sfide di fratelli d'Italia, basto scagionato un uomo dal tentato omicidio. Poi Ortona, un consiglio comunale sul deposito GPL al porto. Infine a Lanciano, Piovano minaccia l'addio per lente manifestazioni Frentano a secco. Proseguiamo, siamo a Teramo, organici sempre più carenti, i ricoveri sono in forte calo. Il direttore generale Fagnano, ospedali, serve più specializzazione. Poi Morra non siederà al tavolo di Brucchi, fratelli d'Italia rischia di dividersi, i gattiani pronti a trattare per mantenere tre assessori, tifo violento, denunciati quattro oltrabiancorossi e poi oggi l'ultimo saluto all'uomo morto in una battuta di pesca. Siamo a Giulianova, edilizia e Cursal, opposizioni all'attacco del sindaco. E poi solidarietà, il contene un umanitario arrivato in Senegal. Sempre Giulianova, potature, la Ciafardoni lancia una provocazione. Roseto, Di Girolamo e Ciancaione, ecco i nostri programmi, si parla delle amministrative. E poi ancora Roseto, Piantati sei alberi in Piazza della Libertà, Alba Adriatica, Commercio, Guerra per il Mercatino, Tortoreto dopo la crisi, i partiti alla ressa dei conti. Siamo arrivati alle pagine dello sport, dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine del quotidiano la città di Teramo. Iniziamo dalla prima pagina per vedere i titoli che riguardano proprio l'apertura della città. Denunciati quattro ultra biancorossi, identificati dalle telecamere per la Digos, hanno aggredito un gruppo di giuliesi in Piazza Orsini a Teramo. Poi lo sport, fumata bianca per Zauli, sarà il nuovo allenatore del Teramo. Andiamo alle pagine interne, Abruzzo, Forum H2O, il mare era e resta inquinato. Il direttore dell'Arta Damiani spiega il mistero delle acque interdette e poi improvvisamente balneabili trasporti, freccia bianca, ok da Trenitalia, alle fermate di Vasto e Giulianova, in basso Pescara, ricorda Corradino, Dascanio, l'inventore della Vespa, abbiamo visto il servizio. Siamo a Teramo, la crisi in comune, manca gatti, rinviato il tavolo politico, slitta domani, l'incontro di maggioranza allargato, con la riunione slitta anche la nuova giunta. Proseguiamo, cronaca, quattro ultras denunciati per l'assalto ai giuliesi, si tratta di ragazzi tra i 18 e i 30 anni che avrebbero aggredito quattro persone con pugni e cinghiate. Ruzzo, rimborsi in bolletta per 70.000 utenti, la società di via dati si adegua alla normativa dell'autority e sistema la fatturazione del servizio. Ancora avanti, l'effetto farfalla dell'isola pedonale, siamo sempre a Teramo, un pasticcio tira l'altro, il pilomatte di via Capuani crea problemi di traffico in piazza Garibaldi. Pannella continua la sua lotta antiproibizionista, sulla tomba del leader radicale, al cimitero di Cartecchio compare un vasetto con su scritto marioana. Adesso sono diventati i portici del Desartis, sempre a Teramo, il locale conquista un altro spazio lungo Corso San Giorgio, oggi l'inaugurazione della gelateria-pasticceria. Proseguiamo, siamo alle pagine della provincia, 8 miliardi di opportunità perdute, il presidente di Confartigianato di Marzio torna all'attacco sulla gestione del Gran Sasso Teramo. In basso la cronaca, questa mattina i funerali del pescatore 55enne precipitato in un dirupo alle 10.30 ci saranno le segui nella chiesa di San Michele al Bivio di Miano. Proseguiamo, prove d'unità per i democratici del Gran Sasso, per il referendum nasce il comitato che mette insieme Montorio, Isola, Tossicia, Colledara, Castelli, Crognaleto e Fano Adriano. In basso referendum il professor Pace sosterrà il fronte del no. Bellante, Flaviana Pavan, chiarisce la sua candidatura, l'unica tessera che ho è quella della lealtà. Siamo in Val Vibrata, Villa Comunale Market della Droga ad Alba Adriatica, Degrado e Siringhe nell'area verde. E poi Mercatino a Viale Vittoria, siamo sempre ad Alba Adriatica. La richiesta di Ciabattoni è arrivata fuori tempo, Massimo in basso, ancora ad Alba. Notte bianca con Alba Carnaval alla Sagra delle Sagre. A Santomero il centro vibratiano si trasforma in un castello di birra. Siamo alle pagine di Giulianova Mosciano. Mastro Mauro ricompatta l'opposizione. Il centro-destra diviso alle elezioni fa fronte comune contro l'amministrazione. Nuove aiole in arrivo per il lungomare di Giulianova. Iniziato il piano di riqualificazione delle zone turistiche strategiche. Andiamo ancora avanti, siamo alle pagine di Roseto, Atri, Pineto e Silvi. Pronto il patto per la sicurezza di Roseto. Sabatino di Girolamo garantisce l'impegno del sottosegretario Bocci. E poi Pineto, anche i Cinque Stelle attaccano sulla farmacia comunale. Ad Atri, una strada dedicata al compositore Rodolfo Zanni. Infine Roseto, Rosaria Ciancaione lancia la volata verso il voto ospedale di Atri. Nonostante tutto il Salliberatore esce rafforzato. Il consigliere regionale Luciano Monticelli, che vedete nella foto, ammette la sconfitta sul punto nascita, ma traccia un bilancio positivo. Ancora avanti, cultura trasferta russa per Don Benedetto. Non solo liberalismo, Mosca due giorni di convegno sulle pensiero di Benedetto Croce. Arriviamo alle pagine dello sport, ma prima c'è l'articolo dedicato alla cittadinanza onoraria che Morrodoro ha dato ad Erri De Luca, che ha portato in Abruzzo la lotta. Notav, vedete le foto, tanta gente per il riconoscimento allo scrittore napoletano. E poi, come detto, arriviamo allo sport. Il titolo principale riguarda ovviamente sulla città il Teramo. Zauli, molto felice di allenare il Teramo. Le prime parole del neoallenatore, l'articolo del nostro Jacopo Forcella, che ha ascoltato anche il neotecnico Biancorosso in esclusiva. Ieri sera, proprio al termine della riunione tra lo stesso Zauli e il patron Campitelli. Vediamo. Qualcosina manca, quindi aspettiamo ancora, ci siamo ridati una settimanina, e poi valuteremo, dai, è sempre piacevole parlare con il Presidente, venire a parlare a una società del genere. Comunque, quindi sono contento di stare qui. Ancora non è ufficiale, ci siamo dati appuntamento per un'altra volta, quindi io sono molto contento, io sono molto contento, mi auguro che possa andare in porto, dai. Senta, Vincer, quando c'è stata l'accelerata definitiva, cioè quando il termo è avverato su di lei? No, ma noi ci siamo sentiti la prima volta, una settimana fa, adesso dieci giorni fa. Questa è la seconda volta che ci vediamo, quindi ci vedremo la prossima settimana, per i dettagli che funzionano, quindi non sicuramente quelli economici, e giusto per organizzare l'eventuale prossimo anno. Quindi mi fa piacere che la società mi abbia messo tra i possibili allenatori del termo, perché ritengo una società importante che in questi ultimi anni ha fatto molto bene, quindi per me a livello professionale non solo, sarebbe motivo di grande prestigio venire qua. Senta, la squadra la conosce, un po' la rosa, che le sembra? Sì, beh, i risultati del termo di questi anni sono sotto gli occhi di tutti, quindi noi cercheremo di fare il massimo, nel caso dovessi essere l'allenatore. Li conosco perché quest'anno sono stato un avversario, e quindi conosco benissimo la qualità di questa squadra. Siamo alle pagine dello sport dal centro, parliamo del Pescara. Pescara c'è l'ex Baroni sulla strada verso l'Ai, Novare Spugna, Bari e supplementari. Domenica la semifinale d'andata, oggi la caccia e i biglietti per il Piola. E poi a proposito di Serie B, la Provercelli su Vivarini, a proposito anche del Teramo, con Zauli, dunque tecnico bianco-rosso per il dopo Vivarini, a Vicenza, biennale per Franco Lerda, ex tecnico del Pescara. Ma torniamo alla sfida di ieri sera al San Nicola di Bari, 4-3 per il Novara, gara davvero incredibile, con tripletta in casa novarese per Gonzales. Due gol per quanto riguarda Rosina nel Bari, davvero tantissime emozioni. Gol decisivo segnato da Galabinov per il Novara al nono minuto del secondo tempo supplementare. Dunque domenica prossima ci sarà allo stadio Piola di Novara la sfida fra Novara e Pescara. L'andata, poi il ritorno il primo giugno a Pescara e noi andiamo ad ascoltare il difensore della formazione adriatica, Ugo Campagnaro. Sì, ho avuto tanti problemi dall'inizio, ho pagato magari che non ho fatto la preparazione, magari queste cose dopo durante l'arco del campionato si pagano, ho avuto dei problemini, niente di serio ma tanti piccoli che mi hanno fatto giocare poco. Adesso niente, ho rientrato l'altro giorno, volevo fare più minuti possibili, sono riuscito a fare i 90 minuti, sono contento e adesso dobbiamo preparare quando sappiamo contro chi dobbiamo giocare la partita al meglio possibile. Adesso ci sono delle partite molto diverse da quelle che ci sono in campionato perché magari uno sbaglia e ti può lasciare fuori e rovinare quello che hai fatto durante tutto l'anno, allora noi bisogna sicuramente stare tranquilli, fare il gioco che facciamo noi durante 90 minuti ogni partita e niente, pensare sempre che se facciamo quello che abbiamo provato sempre ci è andata bene, allora bisogna continuare a fare le stesse cose. Questo è sicuramente un vantaggio importante, quello che volevamo fare noi era arrivare terzi che alla fine non siamo riusciti però era importante, si è visto anche l'anno scorso che il Bologna alla fine quello che ha fatto la differenza è stata la posizione durante il campionato però noi dobbiamo essere tranquilli perché secondo me siamo molto forti, stiamo bene fisicamente e ce la giochiamo. Novara è una squadra molto quadrata dietro, ha preso pochissimi gol e questo si vede che hanno una squadra molto solida e poi in ripartenza sono veloci davanti, hanno dei giocatori che ti possono fare male, è abituato ad aspettare e partire in contropiedi, questo tipo di partita contro noi non lo possono fare neanche giocando loro in cassa perché devono vincere soprattutto là e trovare una squadra forse diversa da quella che hanno trovato durante il campionato. Favorito perché i giocatori hanno fatto, i singoli hanno fatto molto bene, poi si è visto anche un lavoro di gruppo molto importante, poi il gioco del Pescara era quello più bello anche di vedere, allora questo qua ha fatto che ci diano di favorito, però sai playoff e sbagli qualcosina e sei fuori, allora bisogna essere concentrati e lasciare tutto quello che è stato, è un mini torneo e bisogna farlo il meglio possibile. Il mio contratto finisce adesso alla fine dell'anno e niente, ho fatto poche partite anche se mi sono trovato bene qua a Pescara, però sai dopo si deciderà la polizia. Queste le parole di Campagnaro che ha parlato anche del Novara prossimo avversario del Pescara, vediamo l'ultima pagina dello sport del centro, basket, Chieti rinuncia a Monaldi, il play via per scelta tecnica e poi rugby, Troiani e Rotiglio pronti a rilanciare l'Aquila, presentato il nuovo staff tecnico, andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero, playoff come un mondiale, Campagnaro pronto alla battaglia, per la promozione lo abbiamo ascoltato e poi in semifinale c'è il Novara di Baroni, parliamo anche del Lanciano, Maragliulo il tecnico rossonero dice Lanciano io resto ottimista, andiamo ad ascoltare dunque il trainer Frentano. No, questa assolutamente non me l'aspettavo e mi dispiace tanto, però allo stesso tempo anche questa la prendo come una cosa positiva e ribadisco non tanto chiaramente a livello personale per Nicola perché non c'è bisogno che dica altre parole perché in queste partite che abbiamo affrontato da quando ci sono io ha dimostrato tutto il suo valore, ma la cosa positiva è proprio perché chiunque giocherà al posto suo farà lo stesso identico dovere. Ho un gruppo di 23 giocatori tra i quali ce n'è più di qualcuno che non vede l'ora di scendere in campo perché magari non ha avuto grande spazio durante il campionato e questa è l'occasione giusta perché mi dimostrino tutto il loro valore. Io mi sento come sempre anche perché di queste vicissitudine ne abbiamo vissuta già più di una e la cosa più bella è che i ragazzi hanno dimostrato di reagire in ogni momento. La squadra anche a Livorno dopo il primo tempo dove aveva un piede in Serie C ha reagito benissimo sul campo, siamo di nuovo vivi, siamo di nuovo qui a prepararci per affrontare due partite importantissime che ci possono dare una grande soddisfazione. E chiudiamo con il servizio sul rugby per il nuovo staff tecnico della formazione Neroverde. Archiviata la dolorosa retrocessione in Serie A, l'Aquila Rugby riaccende i motori e presenta il nuovo staff tecnico. Primo obiettivo valorizzare i giovani e recuperare il rapporto con la città che lo stesso presidente Zaffiri non esita a definire di odio e amore. Il nostro rapporto con la città è di odio e amore. Il rugby è tanto amato da tanti ma lo sport agonistico, quello domenicale, un po' meno. Responsabile tecnico una bandiera cuirana Vincenzo Troiani, già in passato sulla panchina Neroverde ed una lunga esperienza sia in federazione sia in Celtic League con la franchigia delle zebbre. Valutiamo un attimino innanzitutto i giocatori che intendono rimanere e aderire a un progetto. Io ho parlato di Aquilanità ma per me l'Aquilanità non è un luogo di nascita ma per me deve essere un modo di interpretare questo sport e come è stato interpretato questo sport da chi ha preceduto questi ragazzi con questi colori e i colori di questa città. Chi aderisce a questo progetto deve prendersi carico delle responsabilità che significa rappresentare questa città in questo momento e quello che rappresenta la ricostruzione non edilizia ma sociale di questa città, chi indossa questa maglia. Io sono convinto che l'Aquila Rugby così come l'Aquila Calcio debbano essere dei punti di riferimento per i cittadini di questa città. Aquilano Doc anche l'allenatore del sudalizio neroverde Pierpaolo Rotilio, tecnico con un curriculum importante, impreziosito da una promozione proprio in Serie A con la Gran Sasso Rugby. A completare lo staff un altro pilastro della palla ovale aquilana Maurizio Zaffini che si occuperà della preparazione fisica dei giocatori. È un momento delicatissimo e l'Aquila Rugby insomma non dimentichiamo che è retrocessa e questo non lo può cambiare nessuno. Adesso però la buona notizia è che l'Aquila Rugby ha una grande occasione di comunque di ricostruire, di ripartire dalle fondamenta, dai principi del nostro modo di vivere il rugby e costruire qualcosa di solito, di duraturo per il futuro. Con il servizio sull'Aquila Rugby noi chiudiamo questo appuntamento odierno con Mattino 6. Grazie come sempre per averci seguito. Vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi alle 14 la prima edizione del TG6, poi le altre alle 19 e alle ore 23. Questa sera alle 21 in diretta dei nostri studi anche l'appuntamento con Velo per parlare di ciclismo con il nostro Jacopo Forcele. Davvero tutto, grazie e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.